grafica non ti limiti a guardare ma impari davvero a creare in questo video puoi vedermi all'opera mentre guido una corsista passo dopo passo attraverso tecniche strumenti e segreti del graphic designer o quindi della comunicazione visiva che è la grafica ogni lezione pratica pensata per farti sperimentare direttamente e sviluppare un tuo stile ora io ti domando sei pronto a unirti a noi e trasformare le tue idee in una realtà visiva e creativa a quello che state facendo poi copia vedi quasi fai come ma tu questo l'avevi capito perché questo me l'hai fatto io l'ho visto nel nel tuo progetto non mi ricordavo quella parte adesso che hai fatto vedere delle distanze perché le distanze non me l'avevo fatto proprio vedere nello specifico nel corso precedente però la linea si allinea si ve l'avevo fatto vedere sta dentro allinea c'è qua dentro comunque quindi 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 qui Grazie a tutti.